Benvenuti, benvenuti a questa puntata di Stampa Evangelo, puntata conclusiva di una settimana dove la nostra attività come Popolo e la Famiglia, anche come PDF TV, è stata molto intensa e l'attività continua inevitabilmente. Oggi sarò in Senato a rappresentare le istanze del Popolo e la Famiglia su invito del Corriere della Sera alle ore 12 nella sala Nassiria dove affronteremo il tema del DDL Pillon e dunque faremo sentire anche la posizione del Popolo e della Famiglia e come sapete è contraria al DDL, in particolare alla bigenitorialità perfetta. Siamo stati in piazza al Family Day per dire che c'è un ruolo paterno e un ruolo materno ben specifici non andremo a dire che va bene essere divisi con una bigenitorialità perfetta che introdurrebbe l'ipotesi genitore 1 e genitore 2. Se la bigenitorialità è perfettamente suddivisibile le conseguenze dal punto di vista concettuale potrebbero essere molto pesanti. Il DDL Pillon poi prevede questa follia dei 15 giorni ciascuno con ciascun genitore in un mese per i figli ed è secondo me surreale e qui interviene la mia esperienza da padre separato oltre 20 anni fa il genitore deve sacrificarsi e non immaginare che i figli siano pacchi postali che possono essere spostati ogni 15 giorni. I figli sono al centro dei diritti da tutelare il primo diritto da tutelare è all'unità spazio-temporale del bambino o del ragazzo che evidentemente non può essere spostato addirittura con una doppia residenza nelle varie necessità dei genitori. Vengono prima i diritti dei bambini e dunque la mia esperienza, quella personale, quella che ogni tanto mi fa aiutare anche le riflessioni sulle famiglie ferite avendo passato quell'esperienza ormai un po' più di 20 anni fa ma me la ricordo bene, la mia esperienza fu quella di una persona che viveva fuori di casa ma ogni giorno, ogni sera andava a addormentare la bambina nella casa di quella che era stata mia moglie affinché la bambina non soffrisse il trauma e dunque ero presente ma riconoscendo un ruolo materno preeminente mentre invece l'impostazione del DDL Villon è evidentemente un'impostazione legata a quella che è la piattaforma di richieste dell'Associazione Padri Separati io sono stato un padre separato ma riconosco con nettezza la preminenza della figura materna in particolare nella fase della prima infanzia e non la riconosco io, la riconoscono tutti quelli che erano al Femini Day perché chi stava al Femini Day ha affermato con nettezza che non esiste il genitore 1 e il genitore 2 non esiste la bigenitorialità perfetta, esiste un ruolo materno, esiste un ruolo paterno con diversi significati c'è poi l'intervento della mediazione familiare obbligatoria che è un'altra cosa che appesantirebbe l'istituto matrimoniale lo renderebbe meno appetibile per i giovani rispetto alle altre fatti specie che ormai sono state inserite nell'ordinamento giuridico ricordiamoci sempre che adesso siamo in constanza di presenza di unioni civili e le unioni civili non riguardano solo i gay se lo ricordano pochi ma la legge Cidinà ha due capitoli un capitolo che riguarda i gay e un capitolo che riguarda gli etero dove c'è anche l'unione di fatto tra maschio e femmina e appesantire il matrimonio con addirittura la mediazione familiare obbligatoria in casa di separazione cioè mettersi un commissario dentro casa per me sarebbe stato totalmente impensabile nominato dal tribunale nel momento in cui ho avuto anche il trauma della separazione dalla mia ex moglie sarebbe stata qualcosa di oggettivamente non sopportabile insomma andrò a portare l'esperienza diretta e la proposta del popolo della famiglia in senato su invito del Corriere della Sera oggi alle ore 12 in sala Nassiria dunque continua insomma la forte militanza del popolo della famiglia adesso arrivata anche all'aula del senato nonostante noi non siamo stati eletti in questa legislatura siamo comunque entrati alla fine in pochi mesi siamo riusciti a far sentire la nostra voce anche nelle aule parlamentari allora andiamo a parlare del tema che ci sta più a cuore stampa e vangelo abbiamo preso gli esiti sulla stampa della sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito anzi non sentenza perché è un rinvio al Parlamento della questione con l'invito a legiferare entro il 24 settembre del 2019 bene sono emerse delle reazioni la prima reazione è stata quella di Luigi Di Maio il vice premier che ha detto per fortuna la Corte Costituzionale ci ha dato un anno è un tema che dovremo affrontare poi è intervenuto il ministro della salute si chiama Giulia Grillo e ha ricordato che il Movimento 5 Stelle è sempre stato schierato sulla morte dignitosa diciamo così e lei stessa come ministro sta partecipando alla anzi sta varando gli ultimi decreti che servono al varo dei registri per le disposizioni anticipate di trattamento le famose dat e poi è intervenuta la più bella di tutte il ministro buongiorno la leghista ministro buongiorno che ha fatto questa dichiarazione dicendo da credente ha voluto fare questa premessa da credente da cattolica voglio però varare una legge che preveda l'autodeterminazione per chi vuole morire in maniera dignitosa ora la cosa che mi fa veramente imbufalire dei leghisti è questa premessa da credente ora non serve a niente sventolare i rosari o proclamarsi i credenti avrete notato spero che l'abbiate notato che in tutta questa fase della battaglia sul suicidio assistito non ho mai portato mai portato l'argomento di natura religiosa la vita appartiene a Dio quindi non puoi disporne non l'ho mai avanzato perché evidentemente avanzare questo tipo di impostazione A sarebbe scorretto B sarebbe anche facilmente aggirabile dagli oppositori che dicono noi in Dio non ci crediamo quindi che vuoi perché ci vuoi obbligare allora io mi chiedo perché una deve fare una premessa però così stridente dicendo che da credente allora da credente questo è a favore dell'aborto a favore dell'unione gay da credente adesso vuole anche la legge sul suicidio assistito da credente ha praticato la fecondazione eterologa e ha un figlio senza padre ora va bene tutto per carità ma non dire da credente allora questo ce lo devi risparmiare questo aiutacelo diciamo a non incavolarci aiutacelo a non incavolarci perché davvero da credente no da credente c'è il comandamento non uccidere da credente c'è un magistero il magistero del papa da credente c'è un catechismo della chiesa cattolica e rispetto a tutte queste cose da credente fai l'opposto ora non si può fare questo allora almeno questo i leghisti ce lo risparmino non ci dicono da credente se vuoi fare la legge sul suicidio assistito dici voglio la legge sul suicidio assistito ma la premessa da credente non la fai perché evidentemente è in contrasto palese con qualsiasi pagina qui non c'è proprio discussione con qualsiasi pagina a partire dai dieci comandamenti e noi eravamo in piazza con papa Francesco alla catechesi sul non uccidere e il papa Francesco la catechesi sul non uccidere la lega evidentemente alla cultura dello scarto di cui la legge sul suicidio assistito è assaltamente figlia quindi cara ministro buongiorno da credente no dici che lo vuoi perché nella tua cultura iperliberista hai l'idea che qualsiasi cosa ti venga in mente si possa fare come hai fatto con il bambino che è nato privando il padre, facendo l'eterologa ammazzando chissà quanti embrioni sovrannumerati da credente sei a favore dell'Unione Gay hai marciato con Paola Concia sei ad accordo con Monica Cirinna ma non mi dire da credente cioè di un'altra cosa ricordiamo che questo è il ministro leghista del governo che ieri immediatamente si è detta con titoli su tutti i giornali a favore della legge sul suicidio assistito allora per riepilogare tutte le voci del governo sia grilline che leghiste sono state a favore del suicidio assistito tutte c'è stato il silenzio di Matteo Salvini che non ha commentato e diciamo i vertici della Lega non hanno commentato non c'è stato un parlamentare non c'è stato un parlamentare neanche uno che abbia detto magari da credente che la legge sul suicidio assistito c'è già e lo vieta che è la cosa più ovvia la risposta più evidente non c'è alcun vuoto normativo non c'è alcun vuoto normativo la legge sull'aiuto al suicidio c'è già lo vieta e lo sanziona con cinque anni di carcere come pena minima fino a dodici anni di carcere non c'è da aggiungere altro poi si può dire vogliamo fare un'altra legge ma non si può dire c'è il vuoto normativo perché il vuoto normativo non c'è non si può dire parliamo di eutanasia perché quello che stanno mettendo in discussione non è più neanche il criterio dell'eutanasia che ripeto è cosa completamente diversa dal suicidio assistito l'eutanasia è quella che un medico pratica a un malato terminale su sua richiesta in una condizione di malattia qui si sta introducendo nell'ordinamento l'operazione DJ Fabbo dove DJ Fabbo non è un malato terminale DJ Fabbo è un disabile grave soppresso sempre certamente su sua indicazione attraverso un meccanismo di suicidio assistito che non viene praticato in cliniche questo lo dico agli amici di Avvenire che scrivono sempre le cliniche svizzere non ci sono cliniche svizzere che praticano il suicidio assistito esistono delle casupole casupole che sono spesso di lamiera che sono acquisite dalle associazioni che fanno business sul suicidio assistito dove l'intruglio di Pento Barbital te lo passa chiunque non te lo passa un medico e dove tu paghi semplicemente per avere quell'intruglio che non sei capace di farti e per avere poi quel sacco nero di immondizia in cui ti infilano dentro per portarti fuori di casa quando sei morto perché questo è quello che accade quello che accade non in clinica non esistono cliniche sono casupole case delle associazioni Exit e Dignitas dove tutto quello che viene fatto è che uno ti dà un antiemetico cioè un farmaco per non vomitare perché il Pento Barbital è un barbiturico che serve a ammazzare i cavalli e dunque se tu lo ingeristi senza l'antiemetico lo vomiteresti quindi ti danno l'antiemetico una persona qualsiasi senza qualifica medica poi la stessa persona ha preso la polverina il Pento Barbital che comprano a sacchi che comprano a sacchi che costa per la dose che viene somministrata al poveretto 7 euro e viene venduta a 15.000 ti preparano l'intruglio tu lo devi ingerire perché non lo possono iniettare per questo te lo dà chiunque non un medico e dopodiché quello che loro fanno è che la persona che è lì provvede a smaltire il cadavere è questo che accade con tutti i documenti in regola affinché poi il cadavere possa rientrare anche in Italia molti italiani 100 italiani si sono fatti trattare così non DJ Fabbo Lucio Magri dei depressi delle persone che si vogliono suicidare ci sono delle infinite testimonianze che basta telefonare agli agenti sul territorio di Exit e di Dignitas e se non hai niente una cartella clinica te la costruiscono loro con un finto tumore o qualcosa che giustifichi il tuo suicidio allora noi dobbiamo avere chiaro di cosa stiamo parlando altrimenti se non abbiamo chiaro di cosa stiamo parlando l'orrore crescerà e l'orrore più orrendo è che in tutto il Parlamento Italiano 951 membri non c'è stato uno uno che ha alzato la voce dicendo la legge sul suicidio assistito c'è già e si chiama articolo 580 del codice pienale che lo vieta che lo vieta e dà una sanzione da 5 a 12 anni di carcere tutto questo l'avete letto in non capiamo moriamo ringrazio Mirko Fanizzi che ricorda questo libro era tutto scritto tutto raccontato raccontato quello che sarebbe accaduto non avevo immaginato però che su 951 parlamentari non ce ne sia stato uno uno che ha alzato la voce dicendo la legge sul suicidio assistito c'è già e lo vieta non ce n'è uno siamo qua dove è sto lievito dei parlamentari cattolici nei partiti ma dov'è ma dove stanno ragazzi siamo ormai scomparsi e totalmente irrilevanti avete capito a che serve il popolo della famiglia ora è più chiaro allora scusatemi se lo dico fate un like a questa diretta condividetela sui vostri profili fatelo arrivare attraverso i link ho visto gente che ci chiedeva se c'era il link della diretta mandatelo sulle varie chat whatsapp ai vostri contatti whatsapp ai vostri contatti messenger ai vostri amici di facebook perché siamo i soli i soli a fare questo tipo di riflessione che è una riflessione puntuale in termini giuridici noi non poniamo la questione religiosa non avete mai sentito Maria di Nolfi dire ve lo dico da credente lo dico da cittadino italiano che vuole difendere il tessuto giuridico organico di un paese dove la vita umana è considerata bene indisponibile io difendo questo principio giuridico di civiltà e allora o difendiamo insieme questo principio giuridico di civiltà e facciamo crescere il popolo della famiglia nella consapevolezza delle persone o se no perdiamo perché avete capito cosa è successo ieri il vice premier il ministro della salute il ministro leghista hanno tutti e tre detto che vogliono la legge sul suicidio assistito non hanno detto che c'è già ed è l'articolo 580 del codice penale e lo vieta e non c'è stato uno un parlamentare di qualsiasi partito e qualsiasi schieramento che abbia detto quello che dice il popolo della famiglia allora noi non da credenti ma da cittadini che vogliono difendere l'impianto costituzionale e giuridico del proprio paese noi ribadiamo che la vita umana è un bene indisponibile se la vita umana è una bene indisponibile non può essere tolta da terzi è un criterio chiave dell'ordinamento giuridico italiano se perdiamo questa battaglia poi la conseguenza è l'impianto anglo-olandese Charlie Gard Alfie Evans la soppressione dei bambini perché non hanno una prospettiva di vita che vada oltre i dieci anni l'ammazzatora perché ormai è diventato un'ammazzatora come diciamo a Roma cioè un mattatoio di decine di migliaia di sofferenti depressi anziani malati come non accadeva neanche ai tempi della Action T4 di Adolf Hitler lo ripeto che almeno i disabili li eliminava gratis qui ti chiedono in Svizzera 15.000 euro se tu non vai DJ Fabbo con i 15.000 euro in bocca da Exit o da Dignitas non te lo praticano il suicidio assistito e pensate che il suicidio assistito è una pratica rifiutata persino dall'ordinamento olandese l'ordinamento olandese ha l'eutanasia ma ha il suicidio assistito solo su presenza medica non il metodo svizzero dove tu paghi e la dose di pentobarbital te la dà un qualsiasi spacciatore dell'associazione allora noi dobbiamo avere chiaro tutto questo la lega era il partito dei credenti allora l'unico ministro leghista che ha parlato ha parlato a favore del suicidio assistito anzi l'ha detto chiaramente del principio di autodeterminazione di chi vuole una morte dignitosa ma perché la morte di mio padre che si è fatto fino alla fine tutto il percorso del suo dolore della sua malattia non è una morte dignitosa non ha avuta dignità ma è morto tra le braccia dei suoi familiari che lo hanno curato è accudito per tutta la fase della sua malattia e non c'è dignità in questo certo c'è sofferenza c'è fatica c'è dolore infinito c'è lo sguardo di mio padre che spesso ha detto anche con gli occhi facciamola finita ma poi bastava che arrivava Clara davanti perché sorridesse di nuovo e allora o noi ricostruiamo questa cultura forte dove il sofferente il piagato il nonno l'affaticato è davvero ristorato dalla nostra cura ristorato dalla nostra capacità di essere in questo umani o altrimenti apriamo la stagione della disumanità e allora il conto lo farai sul fatto che nonno muore e io eredito e diventerà legittimato dalle norme tutto questo e sarà pure stato un bene che lui si sia sparato poi il pento barbital in vena per togliersi di mezzo non ce n'è stato uno Gabriele Marconi dice c'erano 150 parlamentari pronti a difendere non c'è stata una dichiarazione non c'è stato altro che il popolo della famiglia a dire con chiarezza che la legge sul suicidio assistito c'è già e il suicidio assistito è vietato dall'ordinamento italiano che è fondato sul principio giuridico della indisponibilità del bene della vita umana volete essere illuminati su questa militanza per la verità leggiamo il vangelo di oggi dopo aver dato accenno ai giornali di oggi leggiamo il vangelo di oggi capitolo 12 sei versetti dal 54 al 59 in quel tempo Gesù diceva alle folle quando vedete una nuvola salire da ponente subito dite viene la pioggia e così accade e quando soffia lo scirocco dite ci sarà caldo e così accade ipocriti sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo come mai questo tempo non sapete giudicarlo e perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada procura di accordarti con lui perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna all'esecutore e questo ti getti in prigione ti assicuro non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo è la parola del Signore di oggi non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo ipocriti non giudicate da voi stessi ciò che è giusto ma come tutti bravi con le previsioni meteo mi sembra così bella questa pagina di Vangelo di oggi ma lo scirocco arriva il caldo il vento arriva il freddo le temperature su e giù ci sono i canali sul meteo e non sappiamo più giudicare ciò che è giusto guardate questa pagina come ci ci illumina il cammino sappiamo che stiamo dalla parte della verità siamo pronti a testimoniarla e guardate che se non lo farete se non sarete stati testimoni fino in fondo della verità che conoscete perché la conoscete non ne uscirete fino a quando non avrete pagato fino all'ultimo spicciolo ora ricordiamolo sempre ieri era il Vangelo di Luca della divisione sono venuto forse a portare la pace no sono quello della divisione tra padre e figlio tra madre e figlia oggi questo avvertimento pagherete fino all'ultimo spicciolo non lo sapete da voi ciò che è giusto e allora amici a chi vi dice il Vangelo e il Volemos è bene ricordatevi sempre queste pagine il Vangelo di oggi è il Vangelo di oggi io penso che siamo davvero in lotta per la verità la verità la conosciamo e siamo in un tempo in cui la verità non viene proclamata è la nostra missione storica non essere ipocriti è la nostra missione storica dai laici impegnati nella chiesa assolutamente proclamare la verità anche in ambito ecclesiastico e non in maniera bigotta o predicatoria ma facendo valere i principi che sono i cosiddetti principi validi erga omnes cioè validi per tutti e tra questi principi il principio giuridico della indisponibilità della vita umana certo poi da credenti questo lo diciamo lo facciamo anche perché conseguenti al magisterio della chiesa conseguenti al comandamento del non uccidere conseguenti al catechismo della chiesa cattolica ma se anche non ci fossero noi saremmo in difesa di un principio giuridico sacro santo che è l'indisponibilità della vita umana che è un principio che permea tutto e organicamente il sistema giuridico italiano infatti per questo noi non abbiamo la pena di morte che in altri ordinamenti giuridici c'è mentre nella nostra tradizione giuridica da tantissimo tempo la pena di morte non c'è perché è assolutamente vigente il principio dell'intangibilità della vita umana il ruolo storico che svolgiamo della missione che ci viene affidata dobbiamo assolutamente far capire che il cosiddetto governo di tregua per i cattolici è un governo dove hanno parlato tre ministri anzi un vicepremiere e due ministri di tutti i colori politici rappresentati nel governo e tutti quanti erano a favore del suicidio assistito tutti quanti e parole da leghisti dove è il ministro Fontana dove è ho visto uno che scriveva l'intergruppo della famiglia Gabriele mi sembra che lo scriveva Gabriele Marconi 150 parlamentari schierati a difesa della famiglia dove sono perché non ha parlato manco uno manco uno neanche uno ha preso parola per difendere l'evidenza dei fatti che non c'è nessun vuoto normativo e c'è invece l'articolo 580 del codice penale vigente che vieta il suicidio assistito dove stanno i 150 ma dove stanno i parlamentari cattolici che fanno lievito nei partiti Anna del Guerra lo dice chiaramente non uccidere più chiaro di così scusate ma sono completamente devastato da un laffreddore tosse e mal di gola malanni di stagione ho visto ho visto che anche altri amici hanno un po' di malanni ma stando sempre in giro sempre a battagliare poi alla fine qualcosa si paga Orietta Secoloni dice e pillon neanche pillon ha detto una parola cercate su internet fate una ricerca su pillon suicidio assistito e non esce niente se voi cercate suicidio assistito la unica voce che è uscita dal coro è quella del popolo e della famiglia che oggi per esempio si è presa una pagina sulla nazione bravissimi gli amici toscani di massa hanno preso una pagina intera bravi hanno conquistato una pagina di attenzione alla mobilitazione del popolo e della famiglia tutti a chiedere di Silvia non chiedono di me io sto male con la dossa nessuno mi si fila Silvia a fare il monitoraggio proprio in questo momento l'ho vista connessa in diretta quindi sta con le macchine che monitorano il momento in cui ci diranno che finalmente arriva io io e in questo momento in ospedale al Santo Spito in Sassia a fare il monitoraggio qualcuno ricorderà gli accenni al Santo Spito in Sassia che ho fatto nelle varie iniziative di presentazione di O Capiamo Moriamo un giro per l'Italia saluto Andrea Brenna del pdf di Como Piero Chiappano del pdf di Milano Jacopo Pioli pdf Cina posso dire così Anna Cavallo pdf Roma Mary Rossi pdf Padova che oggi vedo è felice perché Padova oggi ha pubblicato il comunicato stampa su Cappato Salerio saluto Valeria Annecchino Faustino Cogliandro Ilaria Giurlani Marisca Benedetti Luciana Frangioni Americo Mancini Vito Pietro Loporcaro Daniela Scavolini è un viaggio potrei dire pdf Puglia sia Americo che Vito pdf Marche Daniela Scavolini dovrei citare tutti le località ma insomma saluto ognuno di voi e vi ringrazio davvero pdf Kingdaw dice giustamente Jacopo Pioli Roberto Basilici sei una voce che grida nel deserto ma noi nel pdf siamo con te e infatti tutti insieme stiamo facendo la nostra traversata del deserto saluto Sabrina Bosu saluto Maria Pia Pettolino Marina Caruso allora ricordo che oggi è l'ultima puntata settimanale di Stampe Vangelo quindi se potete un like alla diretta una condivisione sul vostro profilo e il link inviato a tutti i vostri amici fatemi salutare anche Lino Faggio del pdf del Molise Andrea Aquilino che si definisce Sturziano Giuseppe Annicchino Michela Canciani del pdf di Udine Domenico Iovine del pdf del Molise Daniela mi sente addirittura in cuffietta mentre è in bicicletta verso l'ufficio un altro metodo per ascoltare stampa e vangelo Ilaria Ilaria Giurlani dice quando cambia la luna mi pare questi giorni sono i giorni dell'arrivo saluto Danilo Bassan che dice buon weekend in lieta attesa io vi ringrazio molto per il lavoro che è stato fatto ormai è poco più di una settimana diciamo noi siamo usciti prima volta sui giornali giovedì cioè subito dopo l'evento dell'incontro col Papa oggi siamo a venerdì sono otto giorni in otto giorni voglio dirvi che la vostra attività mediatica ha prodotto più di cento citazioni del popolo della famiglia sui vari sulle varie testate quindi davvero congratulazioni al popolo della famiglia per la mobilitazione mediatica che è riuscito a costruire in ogni angolo d'Italia complimenti davvero poi siamo stati anche al canale 5 insomma abbiamo avuto davvero una copertura enorme e straordinaria tra poco vado al Senato a fare questa iniziativa con il Corriere della Sera per quanto riguarda il DDL Pillon e dunque avremo anche questa attenzione saluto Nicola Di Matteo so che Mimmo ha avuto la perdita del fratello morto prematuramente il nostro dirigente siciliano e volevo dare un abbraccio a lui tramite Nicola Di Matteo far arrivare le nostre condoglianze a Mimmo agli amici che hanno vissuto questa perdita saluto anche Bartolomeo Notarangelo Pillon la settesima ora lo trovate sul Corriere della Sera Corriere.it forse lì fanno la diretta ma sinceramente non lo so quindi nel caso poi vi farò vedere le varie i vari diciamo contributi filmati come si dice dell'intervento saluto anche Silvia Lucchetta si Silvia Lucchetta ho detto Silvia Lucchetti a me Linda quando ci saluti ecco qua salutato anche PDF Eritrea con Silvia Lucchetti ringrazio ecco Gabriele Marconi dice potrebbe essere addirittura diretta Facebook dalle pagine del Corriere della Sera e della ventisettesima ora posso dirvi che è alle ore 12 l'intervento quindi collegatevi intorno a quell'ora e certamente ci sarà modo di accedere a qualche forma di diretta tramite i social quindi ci rivediamo oggi in Senato o indifferita perché mi segue dalle varie dirette streaming saluto anche Giancarlo Lazzarini tra i miei coetanei è difficile rendere forti le tematiche pro-life io ci sto provando provaci anche Giancarlo attraverso la trasmissione di Stampevangelo attraverso la condivisione di Stampevangelo ho visto Giancarlo ieri che dialogavi con un tuo coetaneo che vedevo poneva delle questioni quindi vuol dire che evidentemente hai attratto attraverso la ripresa appunto di alcune cose dette in Stampevangelo l'attenzione dei tuoi coetanei e questa è una cosa molto buona e fa crescere consapevolezza anche tra i giovani e i giovanissimi saluto a Suntina Morresi Giovanni Mazzotta noi siamo arrivati alla fine di questa puntata lo ripeto ore 12 sala Nassiria in Senato con spero diretta sulle pagine Facebook del Corriere della Sera o della 27esima ora si interviene a difesa del diritto naturale vorrei dire insomma perché la bigenitorialità perfetta non esiste e non ci piace perché prima vengono i diritti dei bambini e dei figli prima di quelli dei genitori e dunque vivere 15 giorni in una casa e 15 giorni in un'altra è semplicemente follia e se due si separano e vivono in città diverse avete visto le vicende ormai surreali di alcune coppie che è tipo quella di Michele Bosè insomma davvero davvero incredibile dunque andremo a organizzare a far sentire la nostra voce in senato Gabriella Violi dice facciamo incontri in parrocchia certo se volete vengo volentieri in senato in bianco ti dona il bianco non ce lo posso sempre avere di solito sono vestito scuro stavolta abbiamo scelto la maglietta bianca ma insomma è una rarità il bianco ingrossa il nero sfina i figli stanno diventando delle cose assolutamente ragione Giovanni Mazzotta è esattamente quello che andremo a dire in senato oggi sul DDL Pilon poi per un weekend ci mettiamo un attimo a riposo e in attesa della figlia che sta per arrivare come sapete Danilo Bassanna ha messo l'indirizzo della 27esima ora 27esima ora punto corriere punto it Giovanni mi invita a mettere la spilla al senato certamente metterò la spilla c'è anche Emiliano Velasco che saluto c'è anche Marcello Baldini tanti amici da tutta Italia mi raccomando di far conoscere questa puntata di Stampevangelo il silenzio dei parlamentari dove sono i parlamentari cattolici sul suicidio assistito neanche una parola le parole purtroppo dei governanti di tutti i colori tutti a favore del suicidio assistito saluto Rodolfo Zennaro e vi do salutando anche Antonio Antenucci un sacerdote che viene a salutarci mi fa sempre molto piacere quando arriva un sacerdote in diretta tra l'altro non un sacerdote qualsiasi ma anche uno dei membri del coordinamento nazionale l'unico sacerdote membro del coordinamento nazionale del popolo della famiglia è arrivato anche Mario Campanella dal Piemonte io vi abbraccio mi vado a vestire di tutto punto perché in Senato ci vuole la cravatta cioè quello che non ho messo manco dal Papa quando ero deputato era bello perché alla Camera la cravatta non è obbligatoria invece al Senato è obbligatoria la cravatta quindi adesso devo andarmi a bardare come un pagliaccio e insomma non l'ho messa dal Papa non l'ho messa per tutta la mia trafila da deputato non l'ha messa nei vari matrimoni diciamo così ma stavolta per andare a contestare il DDL Pilon mi tocca pure il contrappasso della cravatta per entrare in sala Nassiria quindi mi vado a vestire di tutto punto dicevo e ci vediamo poi con chi riesce a trovare la connessione poi magari ve la passate fra di voi alle ore 12 in Senato quando comincerà il convegno appunto organizzato in sala Nassiria dal Corriere della Sera e poi anche questa settimana di lavoro per il popolo e la famiglia finalmente sarà conclusa cercherò di dedicarmi un po' con più concentrazione anche a Silvia e alla sua fase da monitoraggio che sta ripeto per chi gentilmente l'ha chiesto diciamo è in attività proprio in questo momento in questo momento è sotto monitoraggio all'ospedale Santo Spido in Sassia qui accanto a Via della Conciliazione vi saluto e vi ringrazio non so se farò foto con la gravatta non voglio diciamo così rovinarmi il personaggio e quindi scherzo vi saluto vi ringrazio per le preghiere che potrete rivolgere perché io oggi nonostante un po' la fiacchezza complessiva riesca a dare testimonianza alla verità anche al Senato della Repubblica poi ci sentiamo nel fine settimana con un po' di fatterelli privati intorno alla gravidanza ormai in conclusione di Silvia un bacio a tutti voi soprattutto a Maria Raffaella che ha pregato il rosario per questa mia intenzione grazie grazie davvero saluto Patrice Lozeral Maria Di Giuro e i tanti amici ancora in connessione noi ci ritroviamo lunedì alle ore circa nove diciamo così un po' prima o forse qualche minuto dopo con stampa e Vangelo da Maria Di Nolfi un buon fine settimana a tutti e se volete ci ritroviamo lo ripeto dalle 12 in Senato dalla sala Nassiria saluto anche Francesco Sciarrabbone Alessia Biaggi ricordate che un ultimo like alla diretta se volete la condivisione sul vostro profilo l'invio del link a tutti i vostri amici di Westerger e di Whatsapp intanto arriva la notizia del Torino Pride accolto come parte civile nel processo contro Silvana De Mari una cosa veramente fuori dal mondo quello che sta accadendo a Silvana De Mari la mia profonda e intensa solidarietà che si manifesterà anche concretamente cercherò di scrivere proprio oggi forse qualcosa sul caso De Mari e soprattutto su questa violenza che diventa insopportabile contro la libertà di pensiero operata in maniera così intimidatoria dalla lobby LGBT vi ringrazio davvero Marina Caruso dice spero un giorno di vedere il PDF in Parlamento il giorno è oggi perché oggi il PDF arriva in Parlamento arriva al Senato in Salana Siria quindi alla fine quel giorno è oggi un saluto anche a Marilisa Tessari a Lucio Simonetti alla bella Eleonora Pagano che si connette da Messina da Maria di Noff una buona giornata a tutti a Lucio Simonetti